ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è il nuovo Frederic Costant Manufacture Classic Power Reserve Big Date ecco il nome completo di questo orologio che da poco è uscito sul mercato come al solito i nomi qua si fa fatica a comprendere quali siano le ragioni per cui danno un nome del genere così complicato così lungo e così generico Manufacture Classic Big Date Power Reserve cioè tutte le caratteristiche messe nel nome che poi quando lo pronuncia qualcuno per dirgli ma l'hai visto il nuovo nessuno se lo prefigura davanti sotto questo nome ci vorrebbe un nome un po' più semplice no ragazzi non capisco perché molte case orologiere Seiko ad esempio usa delle referenze basta no Citizen lo stesso un nome un nome semplice corto che identifichi quel modello al volo così che quando le persone ne parlano tac vedono una fotografia nel loro cervelletto e possono e ne guadagna anche il marketing dell'orologio no ora al di là del nome io ho scelto questo nuovo orologio perché avevo voglia di portare qualcosa di importante sul canale no dopo tanti orologini un po' così cosa importante sia a livello di complicazioni calibro di manufattura ma anche di prezzo perché questo qua è un orologino che supera i 17.000 euro di prezzo ma se volete essere anche un pochino più danarosi da spendere c'è la versione in platino che ne costa 25.000 questo in oro rosa è 350 pezzi al mondo quello in platino 35 pezzi al mondo ancora però ci sono anche le versioni in acciaio per noi poveri con l'h in fondo ci sono le versioni in acciaio ok ora detto questo l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico Giacomo che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Vialeggio che è partner del canale ed è concessionario ufficiale di Frederico Stan quindi potete trovarlo lì anche se non questo qua in oro o in platino magari quelli in acciaio fanno un pochino più per voi diciamo così chiaramente l'orologio oltre che importante a livello tecnico e a livello di prezzo rientra anche nei miei gusti perché è tutto sommato compatto sobrio nonostante le complicazioni e quindi mi piace e lo posso testare con piacere indossare con piacere e testare con piacere è una conseguenza ora mi occorre anche fare uso del mezzo pubblico per uso privato devo salutare auguri a Dimitri auguri a Dimitri che è un follower la tua compagna Anna si è premurata di contattarmi anzi è venuta qua poi dopo abbiamo anche concluso la serata in maniera divertente ma questo non deve preoccuparti mi ha contattato per farti gli auguri quindi Dimitri auguri di buon Natale siete così felici e contenti ho fatto anche la mia marchetta verso il follower di turno prima di girare la camera però vi mostro l'orologio del giorno che oggi è un simpaticissimo orologio da tutti i giorni così un passato Omega Speedmaster il Moonwatch 42 mm classico quadrante nero con i tre contatori in questo caso abbiamo il calibro quassiale 3861 e il vetro zaffero sia nel lato A che nel lato B orologio che mi garba abbastanza diciamo no vado a giorni alterni a giorni che dico uno spettacolo a giorni che dico ma stufato è così però lo tengo lo tengo lo tengo per ora lo tengo dai ora giriamo la camera diamo un'occhiata a questo Manufacture Big Date Power Reserve Classic tutti a caso e poi dopo torniamo qua per le considerazioni personali iniziamo come di consueto cercando di comprendere le proporzioni generali e per farlo utilizziamo come riferimento le misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 39.8 mm ingombro trasversale al polso 45.6 spessore 12.4 e interasse ansa da 20 mm misure che oserei definire correlate a questo genere di orologio che attenzione non vuole rappresentare il dress watch per come lo si intende si tratta infatti di una tipologia di orologio definibile con il termine formale e complicato quel genere di segnatempo che intende proporre linee classiche unite a complicazioni particolari e che solitamente vengono proposte con misure cassa molto maggiori dai 42 mm ai 44 va da sé che per ciò che rappresenta si pone come un orologio compatto e ben indossabile al polso sia il diametro che il lag to lag sono contenuti senza però inficiare la possibilità di fruire delle varie complicazioni presenti sul quadrante anche lo spessore è da considerarsi eccellente se non fosse che viene spalmato interamente sul lato carrure andando ad appesantire la resa visiva del profilo si tratta però del classico design comune a questo genere di orologi una configurazione che vede nella carrure panciuta e tondeggiante un segno distintivo convenzionale allo stesso modo appare tondeggiante anche la lunetta a filo cassa e posizionata in modo e maniera da risultare come una propagine naturale della cassa stessa insomma un insieme di linee curve che terminano formando un'ansa piuttosto alta e priva di spigoli vivi tutto ciò fa risaltare il consistente quantitativo di metallo prezioso che dà le forme all'orologio un oro rosa 18 carati che sfoggia una perfetta lucidatura su ogni superficie in pieno stile classico e come ci si aspetterebbe un altro dettaglio fortemente distintivo è la corona di carica ben dimensionata e sagomata a cipolla un retaggio stilistico degli orologi classici a carica manuale che qui trova la sua ragione di esistere nell'eccellente manovrabilità finalizzata al momento in cui si dovrà andare ad effettuare le regolazioni del caso si tratta di una semplice corona a pressione in linea con lo stile che limita la resistenza e le impermeabilità a soli 30 metri si tratta quindi di un orologio da non utilizzare in acqua ma pare superfluo doverlo dire un orologio d'oro da 17.000 euro in mare o in piscina non ce lo vedo al contrario il fondello è saldamente avvitato alla cassa anch'esso in oro massiccio presenta un vetro zaffero che lascia intravedere il meccanismo sottostante e lo fa evitando quel fastidioso effetto ciambella che spesso siamo abituati a vedere questo perché si tratta di un calibro dal diametro piuttosto consistente un movimento di manifattura che rappresenta l'ultima uscita di casa Frederico Stan l'FC 735 è infatti il 31esimo calibro in house realizzato dalla casa ed il primo che presenta la complicazione grandata se non bastasse accompagnata da fase luna e riserva di carica si tratta sicuramente di un valore aggiunto non da poco degno motore di una struttura in materiale prezioso da rimarcare che non sono presenti i pulsanti aggiuntivi ogni regolazione può essere effettuata tramite la corona e non è sempre scontato in questo genere di calibri complicati visivamente parlando ci troviamo di fronte ad un movimento bello a vedersi e ben decorato per l'Age e Cote de Genève riescono a differenziare bene i vari livelli mentre il rotore anch'esso in oro chiude il cerchio dei preziosismi ma giriamo l'orologio e diamo lo sguardo al quadrante che si pone al di sotto di un vetro zaffero quasi piatto il fine ultimo è quello di evitare distorsioni che potrebbero inquinare la visualizzazione delle varie complicazioni che nel dettaglio sono fasi lunari ad ore 6 grandata ad ore 3 e riserva di carica ad ore 9 come si vede sono posizionate in modo da equilibrare la simmetria del quadrante stesso chiaramente non si ottiene la stessa resa visiva ma perlomeno è presente l'intenzione di diversificare le posizioni e di renderle più fruibili infatti non è certo il contrasto tra indice e quadrante a farla da padrone il fondo è di un grigio scuro barra nero che presenta una finitura soleil veramente poco marcata nella maggior parte delle condizioni di luce appare alquanto sobrio e solamente in presenza di una elevata illuminazione riesce a restituirci quei riflessi tipici della lavorazione ciò non è necessariamente un male in quanto nella maggior parte delle situazioni ci apparirà un quadrante sobrio ed elegante privo di frivolezze di sorta gli indici come tutti gli altri elementi sono invece in oro 18 carati finitura di pregio che ne limita leggermente la leggibilità anche se sicuramente migliore rispetto a quelli in acciaio questo perché il colore argento solitamente riflette a specchio il quadrante andando a creare un poco di confusione gli indici in oro invece riescono a risaltare maggiormente in quanto è solamente il colore oro a spiccare senza giochi di luce riflettente appaiono poi palesemente di pregio le finiture generali di tutti gli accenti indici applicati e bene in rilievo finestra data con bordo finemente satinato e stampe ben nitide e delineate soprattutto nel disco Fasi Luna una piccola forma d'arte inserita nel quadrante se devo trovare una incongruenza direi che il logo stampato stona un poco in un orologio di tale pregio e finiture avrei preferito una scritta in metallo applicata ed in rilievo avrebbe reso il tutto più omogeneo ed avrebbe rappresentato quella finezza in più che molti appassionati vanno cercando apprezzo come sempre la complicazione della riserva di carica molto utile se come in questo caso non si vuol far fermare l'orologio una volta impostato il Fasi Lunare diventa poi fastidioso doverlo reimpostare correttamente solo perché si è fermato l'alternativa è quella di indossarlo senza regolare il Fasi Luna cosa che credo il 99.9% degli appassionati fa ricordo poi ai neofiti che la grandata è una complicazione particolare che prevede l'utilizzo di due piccoli dischi separati in luogo di uno unico lungo la circonferenza avremo quindi le due finestre che si muovono in maniera indipendente ed il vantaggio oltre che il valore della complicazione in sé è che si ottiene un datario di grandi dimensioni e quindi meglio leggibile allontanando l'inquadratura e riassumendo ci troviamo di fronte ad un quadrante sericamente addobbato di complicazioni ma allo stesso tempo elegante e di pregio senza strafare insomma segnalo per chiudere l'argomento che non è presente alcun tipo di luminescenza l'eleganza classica viene rispettata integralmente e per farlo è giusto rinunciare all'avvolgare per questo contesto luminescenza non mi rimane che parlare del cinturino un pelle di alligatore di evidente eccelsa qualità un color testa di moro scuro lucido che ben si addice all'oro della cassa non mi è dato sapere quanto comodo sia in quanto ho preferito non spellicolare la chiusura de ployant ma converrete con me che questo non può essere un elemento decisivo per scegliere o meno un orologio di questo tipo possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali a chi è adatto questo orologio? a chi c'ha il grano è poco ma sicuro però se andiamo oltre a chi c'ha il grano è anche il palato fine perché si tratta di un orologio con delle complicazioni particolari cioè a chi piace un orologio in materiale prezioso con delle complicazioni questo qua è proprio l'orologio adatto a questa persona che ripeto che c'ha anche i soldi però tra l'altro è una di quelle case che offre calibri di manifattura ne ha 31 come abbiamo sentito prima calibri di manifattura con delle complicazioni anche abbastanza avanzate al miglior prezzo possibile perché secondo me è il prezzo più basso possibile per un tourbillon loro hanno orologio con il tourbillon o con il calendario completo hanno tutta questa serie di complicazioni a un prezzo che è notevolmente inferiore ai loro competitors questo è da tenere in considerazione ora c'è anche la buona notizia a parte che chi vuole spendere di più c'è anche quello in platino da 25.000 35 pezzi mondo in platino non è per tutti però la buona notizia è che quelli in acciaio costano poco più di 4.000 cioè te cambi la cassa da oro a acciaio e scompaiono 13.000 euro dall'estino poco più di 4.000 per un calibro in house con queste complicazioni con questa cura perché la cura è la stessa che mettono in quello in oro e in quello in acciaio vale la pena a quel punto lì la platea si ampia e può essere un orologio da tenere in considerazione anche per le persone un pochino più normali che sono disposte a spendere un 4.000 euro per un orologio che però calibro di manufattura ripeto e complicazioni varie un orologio classico l'avete visto è il classico orologio panciuto ai lati con la lunetta come ce ne sono tanti mi vengono in mente anche dei breguet cioè tutta una serie di orologi classici che hanno queste forme di cassa così belle tondeggianti ripeto vale la pena tenerlo in considerazione per chi vuole un qualcosa di diverso con l'incalibro di manufattura ok poi io come al solito vi metto sul piatto tutti gli ingredientini vi lamentate sempre no? è però il calibro di fornitura è no però questo è no però qua c'è tutto quello che ci deve essere sia nelle versioni in oro che in quei in acciaio quindi poi fate vobis ragionate con la vostra testa se volete spendere dei soldi o se volete metterli da parte per qualcosa di differente ci sta tutto nella vita ognuno sceglie il suo percorso boom mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti Grazie a tutti.